Centinaia di persone sono rimaste schiacciate dalla folla alle porte della Mecca durante il tradizionale pellegrinaggio islamico dell'Aj, che attira milioni di pellegrini. Le ultime cifre fornite dai soccorsi sauditi riferiscono di almeno 150 morti e 390 feriti. In un messaggio su Twitter, le stesse fonti sostengono tuttavia che il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente. L'episodio si è verificato a Mina, ad una quindicina di chilometri dalla Mecca.